Buongiorno ragazzi e benvenuti in un'ora... Scusate ma mi sono fatta prendere un pochettino la mano, cioè questa cosa non si può commentare. Stavolta vi farò vedere esercizi da fare a casa alle creare, sempre se non me li ho in testa. Quindi vediamo. Ci mettiamo in ginocchio, in questo modo. Cioè per cui vi sto facendo vedere il mio punto debole, quindi ragazzi se finirò al pronto soccorso non vi preoccupate. Sta tutto parte del palo, quindi vabbè. Comunque esercizi da farvi vedere. Ruotate in questo modo. Oddio. Cioè questo è difficile a mostrarmelo. Faccio con una sola per farvi vedere bene. Allora io ce l'ho qua. Però potete vederlo qua anche. Quindi, oppure qua. Vabbè, io preferisco qua. In questo modo. Quando siete diventati bravi con una, anche con due. Io sto anche alternando il movimento del corpo, come potete vedere, perché non sono rimasta come ero prima, ma ho spostato la gamba. Adesso ci alziamo e continuiamo i piedi. Adesso proviamo l'equilibrio. Così. Sempre stesso movimento. Circolare. E adesso con un piede solo. Quindi, la gamba che voi preferite che sta per terra rimane per terra. Invece l'altra gamba la solleviamo. In questo modo. Vabbè, questo lancio, diciamo che non faceva parte proprio del piano. Però potete anche provare dei lanci e riprese. In questo modo. Scusate. Ve l'avevo detto che questo è il mio punto debole. Ogni ginnata ne ha uno, quindi. In questo modo. Cioè, lanciate una clava per aria. E l'altra la passate all'altra mano. Così. Sì! Non me lo so attivate in testa, avete visto? Adesso, per fare qualcosa di più complicato, ragazzi, me lo passo sotto la gamba. E l'ho presa con la mano che l'ha già occupata. E adesso faccio così, guardate. Adesso, se non avete dei vicini sotto, io ce l'ho dei vicini sotto, però, posso dirvi che i vicini sotto fanno una cavolo di commedia tutti i grandi giorni. La musica ha tutto volume, proprio. Oggi, per fortuna, no. Però gli altri giorni devo sopportare questa musica a tutto volume, che proprio mi si mette qua. È una musica triste. È proprio una musica che sembra una musica proprio da funerale. Sembra che ogni giorno è morto qualcuno. Quindi adesso, tremenda vendetta. Bene, ragazzi. Spero che anche con questo video vi ho fatto divertire. Ci rivediamo domani con l'ultimo attrezzo della ginastica ritmica, ovvero la fune.